La provincia di Pesaro Urbino raccontata e descritta dalle testimonianze degli illustri viaggiatori che l'hanno visitata nel corso dei secoli. Parte da questo grande lavoro di ricerca storica l'inedita mostra viaggi a Pesaro e provincia nello specchio del Grand Tour che dall'11 luglio al 27 agosto sarà visitabile in un doppio contenitore, nella sala laurana di Palazzo Ducale e all'interno della Biblioteca Oliveriana. Il tutto preceduto da un'inaugurazione lunedì 10 luglio alle 18 nella sala del Consiglio Comunale. Il progetto, che prevede l'esposizione in teche di immagini, documenti e video, è stato ideato e organizzato dall'Associazione Ad Astra attraverso lo storico Nando Cecini e curato da Angela Cecini assieme al Comitato La Memoria di Carta. Ovviamente non si può parlare di tutti i viaggiatori venuti, però c'è tutto il filone tedesco, soprattutto dei grandi storici Gregorovius, Burckhardt, Monsen per la famosa raccolta delle iscrizioni latine e poi i viaggiatori francesi, più giornalisti, Morel che descrive l'albergo Zongo, che ancora oggi c'è un palazzo Zongo, che lo paragona addirittura al rizzo di Parigi, colpito dalla sontuosità delle stanze di questo palazzo. E poi Morel, dove parlando del mare Adriatico sulla spiaggia di Pesaro, dice che ormai è un mare orientale. Curioso anche la descrizione che il romanziere americano che tutti abbiamo letto da ragazzi, di Fenimore Cooper, l'autore dell'ultimo dei Moicani, che descrive il suo viaggio da Fano a Pesaro, che con la carrozza cammina sulla spiaggia. I suoi bambini giocavano divertiti sulla morbidezza di quel tappeto che divideva il mare dalla collina del Monte Erdizio. Quest'idea di organizzare questa esposizione dalla collezione di Nando Cecini trova nel patrimonio della Biblioteca Oliveriana una sua integrazione, se vogliamo, perché nel patrimonio della Biblioteca Oliveriana sono presenti chiaramente tante testimonianze dei viaggiatori che sono passati a Pesaro, ma anche degli stessi pesaresi che hanno raccontato Pesaro nei diversi periodi storici. In questa occasione abbiamo fatto una piccola selezione tra i nostri documenti e ci sarà una parte più antica, soprattutto dei manoscritti antichi, e poi abbiamo scelto di raccontare di più invece il Novecento attraverso belle testimonianze fotografiche che raccontano il turismo e i viaggi dei pesaresi e non pesaresi nel nostro territorio.